sono andato sul web ho scaricato un oggetto un oggetto Voronoi identifica tutti quegli oggetti tutti quei soprammobili che sono traforati sono fatti come questo maialino questo è un salvadanaio sono andato su questo perché mi piaceva e questo oggetto comunque non lo stamperò perché mi chiedono tante volte di far vedere come escono gli oggetti ma i miei oggetti se sono per dei clienti escono sicuramente bene se no non li faccio neanche gli dico di no tendenzialmente sono pochi gli oggetti che non riesco a stampare questo oggetto è molto molto complesso ci tengo a far vedere sempre che lo prendo online gratuitamente perché per uso personale queste cose sono gratuite se mi sta seguendo la persona che non ha una stampante e si chiede come faccio a reperire gli oggetti sono due o te li disegni o altrimenti te li scarichi gratuitamente devi portare tanta pazienza e cercare con chiavi di ricerca inglesi gli oggetti qua all'interno fatto questo ho caricato il mio oggetto sopra cura 3d e ho abilitato dei parametri in più non per questo oggetto impreciso ma li ho abilitati perché perché voglio andare uno step più avanti fino ad oggi ho fatto dei corsi e ho creato dei profili con parametri base cioè che tutti dovrebbero abilitare ora ho abilitato dei parametri in più che vedremo pian piano vediamo quindi di creare un profilo per tutti quegli oggetti che stamperò che si chiamano vor noi o vor noi vado su le mie impostazioni vado sui profili come ho sempre fatto e gestisco i miei profili vado su prova lo duplico e lo chiamo 04 e lo chiamo oggetto vor noi che ripeto sono tutti quegli oggetti fatti come questo oggetto che stiamo provando clicco su ok mi duplica il profilo l'ho già rinominato chiudo ricordo sempre selezionate il vostro profilo prima poi di modificarlo lo seleziono elimino tutti i vecchi parametri e quindi carico quelli della prova questo oggetto qua è un oggetto molto molto complesso e dipende molto anche dalla stampante che utilizzate soprattutto dalla ventilazione questo oggetto qua anche se è un oggetto medio 10 x 10 x 10 cm circa utilizzerei un'altezza dello strato il più sottile possibile nel senso che non utilizzerei uno 0.6 ma uno 0.1 perché più vado su con l'altezza del mio strato e fra virgolette meno il materiale viene retto perché perché il mio angolo di inclinazione se uso se passo da 0.2 a 0.1 si dimezza perché ci sono più strati e quindi l'inclinazione viene suddivisa in più parti come altezza dello strato iniziale lavoro sempre a 0.2 qua in questo caso è perfetto scendo in basso e lavoriamo sul guscio sul guscio la cosa che farei io è se un oggetto che serve per per estetica cioè un soprammobile la lascerei sulle pareti 0.8 che sono quindi 8 decimi come spessore dello stato superiore inferiore lo porto a 1 perché ho intenzione di scaricare il mio riempimento anche perché qua riempimento per me non è non è necessario anzi alcune volte da un po fastidio perché fa vibrare l'oggetto in modo sbagliato come configurazione dello stato superiore e inferiore io tengo quasi sempre linee in questo caso mi chiede le pareti esterne prima di quelle interne qua questa voce qua è importantissima io voglio che le pareti interne siano stampate prima di quelle esterne perché le pareti interne verranno depositate prima e quindi la mia parete esterna reggerà di più perché l'inclinazione qua è fondamentale arrivati a un certo a un certo punto l'inclinazione si fa pesante ora ci metto anch'io la mia pubblicità se una stampante 3d sta imparando o sei già capace a stampare che cosa devi fare ti chiedono un ordine grosso hai difficoltà a realizzarlo con una due o tre stampanti basta che tu vai sul sito di fabula 3d che è la mia azienda siamo tre soci e carichi il file stl o mi scrivi caricando il file mi mandi un link a cui scaricare il file dopo 15 giorni verrà eliminato se mi scrivi chiedi informazioni ti diciamo quanto tempo ci mettiamo ma soprattutto tu ci dai una data noi abbiamo tante stampanti tu prendi una bella provvigione tu prendi una bella provvigione ma soprattutto non butti via al lavoro non butti via al lavoro perché è un peccato dire di no a un'azienda o a una persona che vi sta chiedendo di stampare tanti oggetti stampa 3d come riempimento dell'oggetto lo scarico totalmente perché è un oggetto estetico e voglio che all'interno io non abbia riempimenti e non voglio che ogni ogni parte che sta salendo ogni parte piccola che sta salendo sia riempita non voglio perché mi crea problemi mi fa vibrare l'oggetto mi si eliminano tutti i parametri del riempimento e poi in genere tutti gli oggetti vorono noi sono stampati sono stati realizzati per far sì che si chiudano per far sì che si chiudano anche senza supporti e riempimenti se riscontrate dei problemi aumentate il riempimento potete metterlo anche 100% però per me ci sono delle parti che è inutile riempire al 100% tipo la parte frontale del muso del maialino quelle parti che salgono strette tipo queste parti qua rosse traforate tutte queste oggetti qua se io uso riempimento 50% 20% comunque in percentuale saranno riempite male perché riempimento non viene suddiviso un po in base alla distanza fra le linee se usate un riempimento medio questo oggetto qua per me uscirà male chiusa la fase di riempimento che l'abbiamo totalmente scaricato andiamo sul materiale è bene stampare questo oggetto qua con una temperatura con la temperatura più bassa possibile e utilizzo una temperatura di stampa media di 195 per il PLA una temperatura di stampa dello strato iniziale è alta perché voglio che si depositi bene e che rimanga bene attaccato al mio piano inferiore perché è la parte che deve reggere di più la parte su cui si appoggia l'oggetto se ovviamente l'adesione dei layer non è perfetta sullo stato iniziale probabilmente quando stacco l'oggetto mi rimarrà in mano un'altra cosa è la temperatura di stampa finale che più è bassa e più l'oggetto si chiuderà meglio quindi lavoro a 190 come diametro del filamento vedete che con questo oggetto qua che non ha bisogno di supporti o di eventuali riempimenti è meglio tenere più bassa la temperatura perché il materiale si secca e rimane lì si secca più facilmente come flusso dell'oggetto lo porterei a 96 97 e come poi dipende molto anche dagli step dei vostri motori però con le stampanti che utilizzo io che il 100% è un po più alto quindi il 98 è il mio 100% uso riempimento di due punti più basso perché voglio che esteticamente il mio oggetto isca bene posso anche scendere posso anche scendere fino a 94 perché è un oggetto estetico tanto io non devo prenderlo e stringerlo e testarlo meccanicamente la ritrazione si l'abilito molto soprattutto su questo oggetto qua e userei dire se utilizzo una distanza di ritrazione che è 7 che è quella giusta per il tubettino di per il tubicino di ptfa che ho posso anche aumentarla di qualche punto perché voglio che non rimangano i filetti fra un fra un punto e l'altro stessa cosa evito filetti diminuendo la temperatura di stampa come velocità di ritrazione l'alzo un pochettino perché voglio che la ritrazione cioè quella fase di ritrazione sia più veloce possibile e gli spostamenti li alzo di molto li alzo di molto affinché la mia stampante reggia certo che se state usando una stampante che ha una componentistica scarsa può essere che più andate su con gli spostamenti più i livelli si sfasino cioè vedete che un livello è spostato rispetto all'altro quindi in z vedete tutti i livelli spostati è una cosa che non va che non va bene come velocità di stampa sto stampando 0 1 quindi 50 in questo caso va bene potete anche tirarla su velocità di stampa dello strato superiore inferiore lasciamo assolutamente 25 e la velocità di stampa dello stato iniziale ci sta sempre 25 forse forse si può aumentare lo strato superiore quindi aumento questo valore a 35 e lascio comunque 25 allo strato inferiore come spostamenti mi chiede ritrazione prima della parete esterna questo caso io non la voglio questo è un parametro che ho abilitato adesso recentemente perché è una fase successiva cioè stiamo andando un po più sul sul difficile in questo caso io l'ho abilitata perché in altri casi voglio una ritrazione fra la parete interna e quella esterna per non rischiare che escano dei piccoli puntini è da verificare sempre che non crei dei difetti sulla parete esterna poi io vorrei abilitare in futuro ora no perché non serve la giramento delle pareti sugli spostamenti cioè quando la mia la mia testina si sposta voglio che non che non passi sopra all'oggetto che ho stampato in questo caso non mi interessa molto perché passerebbe sempre sulla parte interna del mio oggetto succede se state stampando molti oggetti e la testina passa sia sulla parete esterna che su quella interna su quella esterna potrebbe lasciare un difetto in questo caso però disabilitiamola lo z hop durante la ritrazione qua è indifferente io non la uso perché voglio vedere se il mio oggetto si stampa bene lo stesso e che esteticamente esca bene il raffreddamento va abilitato al cento per cento cioè al massimo l'unica cosa che voglio garantirmi è siccome sto lavorando ad una temperatura bassa rischio che il mio primo i miei primi strati quando sta con l'oggetto si sfoglino quindi che cosa faccio vado sulla visualizzazione a strati mi rendo conto quando cominciano le pareti esterne e per far sì che l'adesione delle mie pareti sia più alta con il mio strato inferiore aumento il livello a cui parte la ventola tanto qua non ci sono parti non ci sono parti a sbalzo quindi io sono andato a vedere che più o meno il livello è 23 io gli dico al livello numero 20 fai partire la ventola di conseguenza ricapitolo perché forse non sono stato molto chiaro io ora gli sto dicendo quando arrivi al livello 20 cioè finché non arrivi a livello 20 la velocità della ventola non deve essere abilitata è un po come il nostro primo strato dal 20 in poi ma è l'ability quindi lavorando a temperature basse io faccio in modo che i miei primi strati compreso il primo stato più le pareti che aderiscono al mio primo strato siano ben aderenti cioè i layers aderiscano bene ovviamente questo per evitare che il mio strato inferiore si delamini quando si usa quindi questo trucco qua della ventilazione quando lavori con temperature basse e quando stai stampando un oggetto vuoto in cui l'aggiunzione fra pareti e livello inferiore e superiore sono sono molto piccole vediamo la il supporto per questo oggetto è da deselezionare in genere questi oggetti qua vorono noi sono stati progettati se sono stati progettati bene dovrebbero uscire anche senza supporto con dei parametri corretti adesione al piano di stampa è un oggetto che probabilmente va avanti tanto quindi nove ore per precauzione attivo un brim attivo un brim con una ventina di linee perché voglio che il mio oggetto prima di tutto non si stacchi cioè non si imbarchi un attimino e che rimanga bene giù quindi tanto non mi costa niente fare venti linee brim solo sull'esterno sì perché tanto la parte critica solo sull'esterno ho attivato anche delle funzioni sperimentali perché in futuro le vedremo abilitando la funzione di costing se non ho capito male e per quello un po che abbiamo provato riduce un po il filetto cioè nell'ultima parte non estrude di conseguenza quando si sposta il filetto cioè il materiale dentro alla stampa non viene buttato fuori in questo caso proverei ad utilizzarlo perché perché questo è un oggetto in cui si rischia che rimangano tanti filetti lo abiliterei solo per prova e lo terrei disabilitato perché se esce bene forse va bene anche così ora non lo abito come oggetto cavo potrei abilitarlo sì però ho già tolto il riempimento quindi sono già posto abilita striatura l'ho attivato perché mi interessava questa cosa qua se non ho capito male fa l'ultimo strato tutto lo strato superiore c'è la sommità la ripete senza estrudere materiale in modo da provare a lasciare l'oggetto sono cose sperimentali ora non le abilitiamo perché non voglio inserirle nei miei profili di stampa perché potrebbero esserci dei bug cioè degli errori abbiamo visto ora quindi il profilo per realizzare questo oggetto un po strano un po strano che un oggetto voronoi è un salvadanaio ho tolto tutti i supporti e dovrebbe uscire correttamente anche così ripeto io non ho riempito l'oggetto cioè l'ho svuotato totalmente potete anche riempirlo se volete al 90 95 85 per cento non di meno quindi o lo svuotate o lo riempite dall 85 per cento in su perché altrimenti alcune parti non avrebbe neanche senso riempirle impostati tutti i parametri lo dico sempre perché magari è la prima volta che vedi un video su come realizzare il profilo perché ti interessava stampare un oggetto per noi magari se è capitato prima su questo che su tutti gli altri ho creato tanti profili voglio salvare anche questo profilo qua clicco sulla stellina vado su aggiorna profilo con le impostazioni correnti e mi si aggiorna il profilo chiudo ora la prossima volta che stampo un oggetto simile avrò già il mio profilo salvato potete fare una variazione e vedete voi poi con la vostra stampante come si comporta potete oltre che lavorare a 0 1 di altezza layer potete anche mettere 0.06 perché perché sempre l'inclinazione l'angolo di video ti è stato utile condividilo metti sotto un bel commento e ci vediamo alla prossima ciao